A Caltanissetta il questore Pinuccio Albertino Agnello ha adottato una serie di misure per contrastare le forme di devianza nella zona emanando 5 provvedimenti preventivi in seguito all'istruttoria condotto dalla divisione Polizia Anticrimine. In particolare due persone di età rispettivamente di 46 anni e 43 anni sono stati oggetto di ammonimento a seguito di casi di violenza domestica. Nel corso di una lita il 46enne avrebbe aggredito la moglie causando le lesioni personali mentre il 43enne avrebbe perpetrato minacce e atti di violenza nei confronti della consorte con la presenza dei figli minori. Entrambi sono stati ammoniti e invitati a mantenere una condotta conforme alla legge. In un contesto più ampio di azioni mirate un padre e un figlio originari della provincia di Catania precedentemente arrestati per una rapina nel capoluogo sono stati sottoposti ad un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Caltanissetta per i successivi tre anni al fine di preservare la sicurezza locale. Infine un giovane di 25 anni responsabile di lesioni personali, minacce e portodarmi è stato destinatario di un provvedimento di avviso orale. Questa misura ha l'obiettivo di prevenire comportamenti illeciti dannosi per l'ordine pubblico e la sicurezza incoraggiando il soggetto coinvolto a modificare il proprio atteggiamento.